E' una levata di scudi generale quella del Consiglio regionale del Molise contro il regionalismo differenziato attivato da tre regioni italiane, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, e che rischia di diventare una frattura insanabile tra regioni del nord e regioni del sud. Pur con sfumature differenziate, uno schieramento trasversale che abbraccia forze di maggioranza e di opposizione si è espresso affinché il Governo nazionale provveda ad eliminare gli elementi di criticità di un percorso a dir poco insidioso. Mozioni e ordini del giorno sono pervenuti da vari fronti, centrodestra, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle. Una mozione è stata presentata anche dall'ex governatore Iorio, che in aula è stato protagonista di un intervento come non se ne sentivano da tempi. 20 minuti a braccio in difesa delle prerogative del sud, delle regioni piccole, del rispetto del principio costituzionale di solidarietà. La mia posizione è sicuramente di grande attenzione nei confronti di un provvedimento di enorme rilevanza che ancora non è sviscerato in tutti i suoi aspetti. Devo dire onestamente che da quando è stato approvato il federalismo fiscale quella fase poi non è stata più portata avanti. Oggi improvvisamente si parla di autonomie differenziate, mi sembra eccessivo e pericoloso sia per il sud ma in maniera particolare per la nostra regione. Rischia di essere, come ho detto già in precedenza, un vaso di coccio tra due vasi di ferro perché quant'anche il discorso si potesse risolvere all'interno della problematica nord-sud, in senso favorevole al sud. Resta il problema del Molise che ha bisogno invece che venga applicata la legge sulla sussidiarietà che noi abbiamo richiesto in maniera speciale per le piccole regioni. Sulla stessa linea di uno stop a derive separatiste ed in favore del principio di unità nazionale anche il sottosegretario alla presidenza della regione, Quintino Pallante. Io credo che questo sia un tema che inizialmente è stato sottovalutato. Io non vorrei che questo fosse l'inizio di un processo inverso rispetto a quello che i nostri padri costituenti, prima con la Costituzione e poi ancora prima con un processo di unificazione dell'Italia, possa portarci indietro di 150 anni. È evidente che le esigenze sul territorio sono diverse, è evidente che il sud ha un ritardo e la garanzia dei cittadini rispetto a garanzie costituzionali non può passare attraverso una differenziazione e una ridistribuzione del prodotto interno. Un invito a vigilare, ma senza demonizzare le regioni interessate, è venuto da Filomena Calenda. L'esponente della Lega si è dichiarata convinta che il ministro segretario Salvini saprà ascoltare le istanze dei molisani. Attendiamo adesso gli esiti non solo delle iniziative molisane, ma di tutte le altre regioni d'Italia. Il rischio che dietro al regionalismo differenziato si nasconda di fatto un separatismo egoistico con scuole differenziate, sanità differenziata, servizi sociali differenziati e via dicendo, è un pericolo concreto e non solo una ipotesi di scuola.